Grazie alla sitcom The Nanny, in Italia conosciuta come La Tata, Fren Dreschner è diventata l'icona della commedia degli anni 90. Ma ha dovuto lavorare e lottare molto per arrivarci. Nel 1985 un fatto tragico la colpisce e ci vorrà molto perché lei si riprenda. Ho imparato a trasformare gli eventi negativi in fatti positivi, ha detto durante un'intervista, e questo l'ha trasformata nella donna combattiva che è oggi. Oggi parliamo di una grande icona. Sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Oggi parliamo di Fren Dreschner, la fantastica tata. Non so se alcuni di voi forse sono un po' giovani, però io me lo vedevo, ero piccola, poi chiaramente nel corso degli anni ho fatto rewatch. E ho pensato di portare la sua storia perché ho scoperto delle cose veramente anghiaccianti che le sono successe a questa poverina. Nonostante questo ha continuato a combattere, ha continuato a lottare e lei, come dicevo nell'intro, ha trasformato tutti gli eventi negativi della sua vita in eventi positivi. Quindi possiamo soltanto imparare e prendere ad esempio questa donna. Chiaramente adesso vediamo tutto nel dettaglio. Allora partiamo dall'inizio. Dunque, Fren è nata nel Queens a New York da una famiglia ebraica. Da sempre è intenzionata a diventare attrice, studia presso la Hillcrest High School e contemporaneamente frequenta un corso di recitazione. In questo corso di recitazione conosce quello che poi sarà il suo futuro marito e si sposeranno nel 1978, cioè Peter Mark Jacobson. Niente po' di meno che il produttore della tata. Ma in realtà anche lei stessa, anche Fren stessa, come vedremo tra un po', è produttrice della tata, oltre che sceneggiatrice e protagonista. Dopo aver fatto diversi lavori come parrucchiera ed estetista in alcuni centri di bellezza per mantenersi, fa il suo debutto cinematografico a 19 anni nel 1977 con un piccolo ruolo nel film La febbre del sabato sera con John Travolta. Per tutti gli anni 80 ottiene prevalentemente piccole parti in sitcom come ad esempio This is Final Tap o Il grande regista o in altre più famose come Saranno Famosi, Il mio amico Ricky, Giudice di una notte. Bene. Prima di arrivare alla tata, lo metto prima, sia perché succede prima, sia perché così dopo ci riprendiamo un attimo da questa tragedia e cerchiamo di... questo video sarà un continuo sbalzo d'umore perché sta poverina e quando le succede qualcosa di bello poi le succede sempre una tragedia, come vedremo. Allora, nel 1985, che cosa succede? Lei, Fren, insieme a suo marito Jacobson e una sua amica stavano cenando a casa di Fren e Jacobson, a loro casa, dove vivevano in un appartamento che cosa succede? Entrano due malviventi armati con pistole e mentre uno svaliggiava la casa, l'altro ha massacrato di botte, legato e bendato Jacobson e poi ha violentato sia Fren che la sua amica. Oddio, mi sono già venendo i brividi a pensare a una cosa del genere chiaramente è stato un episodio molto traumatico che lei non ha rivelato immediatamente alla stampa ne è riuscita a parlare qualche anno dopo, dopo diversi anni di terapia perché capite che una cosa del genere ovviamente l'ha distrutta, l'ha stravolta come ha detto lei, l'ha fatta in tanti piccoli pezzi e ci ha messo anni prima di riavvicinarsi a se stessa, come ha detto in un'intervista di Fox News. Che cosa succede? Lato, diciamo, positivo di questa tragedia che lei ha una memoria fotografica, quindi lei è stata fondamentale per stilare l'identikit di questi due malviventi che poi si è scoperto essere fratelli, uno dei due in libertà vigilata e alla fine appunto tramite il fatto che lei avendo questa memoria fotografica si è ricordata ogni dettaglio, l'identikit è uscito identico quindi alla fine questi due sono stati presi e adesso stanno scontando l'ergastolo e lei ha rilasciato una frase che mi ha colpito dice almeno io ho la chiusura che molte donne purtroppo non hanno ma io sì e ora sono rinchiusi per sempre chiaramente questi eventi l'hanno distrutta come vi dicevo prima lei ha vissuto molti anni nel panico ad esempio aveva paura anche di rumori forti racconta che un giorno è entrata in un ristorante e già era a disagio per tutto il caos che c'era a un certo punto il cameriere fa cadere un cesto con le posate e lei si alza, si spaventa e inizia ad urlare in piena crisi di panico non è stato semplice però come dice lei lei cerca di trarre sempre, di trasformare le cose negative in fatti positivi quindi non si è lasciata scoraggiare nel 1993 infatti riesce nella produzione appunto della Tata sì perché come vi dicevo prima lei non è solo l'attrice protagonista della Tata ma è anche la sceneggiatrice e la produttrice insieme a suo marito dunque per chi non se lo ricordasse per chi non l'ha visto vediamo brevemente la trama della Tata perché io mi ricordo che ero molto piccola quando faceva la Tata però me lo guardavo e mi è rimasto sempre nel cuore tant'è che qualche tempo fa ho giusto rifatto il rewatch e trovate anche gli episodi su youtube quindi è veramente veramente una bella sitcom lei poi è iconica con quei suoi outfit che sono attualissimi ancora ad oggi la sua risata cioè lei fa sentire male è un personaggio meraviglioso di che cosa parla Tata senza spoiler nel caso qualcuno di voi non l'abbia visto e lo volesse vedere chiaramente è una sitcom dunque c'è questa Fran appunto che in italiano è stata chiamata Francesca però in lingua cioè in americano in inglese è Fran lei si presenta a casa in questa villa lussuosa del signor Maxwell Sheffield che faceva il produttore di Broadway per vendere dei cosmetici delle creme il maggiordomo Niles, altro soggettone, il maggiordomo Niles la fa entrare in casa convinto che lei fosse l'ennesima candidata come ruolo di Tata perché il signor Sheffield stava facendo quel giorno dei colloqui per trovare una Tata per i suoi tre figli che erano Maggie, Brighton e Gracie quindi lei alla fine vede quella casa lussuosa in più il lavoro prevede anche l'alloggio dentro quella casa iperlussuosa e dice sì sì sono venuta qui come colloquio di Tata quindi alla fine non vi spoilero niente però si susseguono tutta una serie di vicende in cui Francesca cerca di riavvicinare il signor Sheffield ai suoi figli perché lui è un uomo molto impegnato, pensa solo al lavoro quindi cerca di ricostruire il rapporto tra i suoi figli poi ci sono altri personaggi appunto come il maggiordomo Niles che fa morire dalle risate e la socia e collaboratrice di Maxwell è innamorata di lui cioè Sisi Bedkopf che praticamente non fa altro che besticciare con il maggiordomo Niles e i ragazzi si creano degli sketch meravigliosi tutti i personaggi sono scritti benissimo ed è una sitcom molto carina ha anche dei temi forti appunto come la paternità e tutto però fa morire dalle risate ah e stavo dimenticando i personaggi iconici di Zia Assunta e Zia Ietta oddio ragazzi riterò per i prossimi 40 minuti ve lo dico per quello detto parliamo dopo di quella tragedia della Tata che almeno ci risolleviamo un po' bene ah e per gli amanti devo darvi però una delusione perché appunto nel riadattamento italiano loro sono italo-americani quindi appunto sono Zia Antonietta, Zia Assunta, Francesca in realtà nell'opera originale sono ebrei del Queens però vi dico la verità ci sta come riadattamento questa volta perché comunque molte delle gag comiche della serie sono date proprio dalla differenza di mondo e classe sociale diciamo della ricca parte di New York con gli ebrei del Queens cosa che noi italiani non avremmo capito e secondo me avremmo perso molto di molta ironia su questo punto di vista quindi secondo me hanno fatto bene a dargli diciamo questa questa a cambiare e dire ok sono italiani fine tant'è che addirittura molti pensate si lamentarono del fatto che appunto Francesca cioè Fran originariamente fosse troppo ebrea e avrebbero preferito che lei e i suoi parenti quindi Zia Antonietta eccetera fossero italo-americani perché secondo appunto parte del pubblico avrebbe fatto ancora più ridere quindi diciamo che l'adattamento italiano non è stato malaccio poi nella serie appaiono anche come guest star ospiti di rilievo come Pamela Anderson, Ray Charles, Billy Ray Cyrus, Elton John, Trump, Celine Dion e WP Goldberg comunque non vi dico altro perché altrimenti se la volete vedere bella spoiler e andando avanti diciamo pensate che è venuta a Fran l'idea infatti lei per quello dicevo è anche sceneggiatrice è venuta a lei l'idea perché è andata pensate come vengono proprio le idee creative è andata a trovare una sua amica a Londra e quando è andata a casa di questa sua amica c'era pure la figlia di questa sua amica che aveva comprato delle scarpe un po' sgargianti però troppo strette quindi lei che cosa ha fatto si è messa queste scarpe ha cominciato un po' a camminare insomma si è creata una sorta di gag e le è venuto in mente così il personaggio tant'è che infatti anche il fatto che Francesca Vesta tutta striminzita le viene proprio da quell'idea inoltre parte del personaggio è ispirato a lei innanzitutto perché appunto anche lei è ebrea del Queens e quella che noi chiamiamo zia Antonietta e zia Assunta in realtà sono nell'originale la madre e la nonna e hanno gli stessi nomi di sua madre e di sua nonna e anche lei e zia Assunta come la vera madre di Fran hanno lavorato in negozi di bellezza quindi i personaggi si ispirano molto alla sua vita la serie non fu immediatamente un successo allora l'episodio pilota ha convinto la NBC e ha detto ok ti do altre 22 stagioni la prima serie non fu proprio un successone tant'è che pensavano quasi di cancellarla poi uno dei produttori è andato dall'NBC e ha detto fidatevi ci vuole un po' di tempo ma questa serie diventerà un cult e infatti poi dalla seconda stagione è piaciuto e le stagioni in totale sono state 6 comunque le tragedie per Fran non finiscono qui perché vi dicevo ogni volta che le succede qualcosa di bello poi succede una tragedia questa che vi sto raccontando non è neanche l'ultima ve lo dico allora succede che a un certo punto lei mentre girava la tata perché non so se lo sapete ma prima le sitcom venivano girate davanti ad un pubblico vero cioè le risate sotto erano vere adesso sono finte ma le risate dell'epoca erano vere era pubblico che rideva e che cosa è successo? che lei è stata minacciata da uno stalker cioè lei sfiga totale per un periodo di tempo ho avuto uno stalker che la perseguitava e chiaramente già avere uno stalker è qualcosa di veramente traumatico ma immaginatevi dopo quello che ha passato lei qualche anno prima nel 1985 quanto puoi essere terrorizzata dall'avere uno stalker così che cosa fanno? siccome lei aveva paura ad andare perché aveva paura che lo stalker fosse tra il pubblico non potevano spostare il set non c'era il budget per spostare il set ormai era pronto praticamente hanno fatto una selezione del pubblico quindi hanno fatto dei colloqui dei provini per le persone del pubblico fruttando però questa cosa perché? perché facendo i provini per il pubblico in realtà potevi prendere persone di diverso sesso diversa etnia diversa età diverso contesto sociale quindi avere una sorta di gruppo sperimentale con diversi gusti quindi in quel modo capire quali scene facevano effettivamente ridere e quali no perché tu avevi un pubblico variegato e pensate che quest'idea poi è stata ripresa da tutte le altre sitcom dopo quindi sempre recitando la sua frase trasformo eventi negativi in cose positive alla fine questa si è rivelata una cosa più che positiva però non finiscono qua le tragedie perché chiaramente come vi dicevo prima quell'episodio l'ha segnata e è andata in terapia col marito con Jacobson perché chiaramente anche lui è stato segnato da questa cosa sono andati in terapia e suo marito ha scoperto di avere in terapia in realtà di essere omosessuale quindi cioè chiaramente non so se magari non se n'era accorto o se lo ha sempre rifiutato comunque alla fine in terapia è venuto fuori il fatto che lui fosse omosessuale quindi non la chiamerei tragedia in senso se per sé perché chiaramente ognuno deve seguire poi i suoi istinti quello che è però chiaramente per Fran è stato un brutto colpo immaginatevi il vostro marito di una vita stavano insieme dal liceo a un certo punto si scopre che è omosessuale hanno divorziato nel 1999 per alcuni mesi è stato difficile però però sempre per la frase trasformo le cose negative in cose positive in realtà i due hanno recuperato un altro tipo di rapporto cioè il loro rapporto si è evoluto sono diventati migliori amici confidenti ancora ad oggi lavorano insieme vanno in vacanza insieme si chiamano sempre e alla fine sono diventati amici quindi il rapporto non si è perso non si sono lasciati con rancore sono adesso migliori amici quindi anche questa cosa cioè ci vuole tanta forza anche per questo per riconsiderare il rapporto di una persona con cui stai da una vita perché comunque Fran è inarrestabile cioè secondo me è inarrestabile vedete le succede una cosa negativa tac si riprende le succede un'altra cosa negativa tac si riprende è una donna veramente veramente con due palle così se scusate il termine comunque pensate che la tata ebbe così tanto successo che chiaramente quasi mezzo mondo fece i remake ho trovato i remake del Sud America tra Ecuador, Messico, Cile eccetera ho trovato anche un remake greco e un remake russo e pensate che il remake russo in Russia ebbe più successo dell'originale in americano ebbe addirittura 27 episodi in più rispetto alla serie originale poi un'altra cosa sapete che ha fatto Fran maledetta l'ho odiata per un po' praticamente siccome appunto la tata è rimasta nel cuore di tutti i fan volevano un reboot cioè volevano o che ci fosse un remake o un continuo quello che sia però volevano che continuasse e che è successo qualche anno fa se non sbaglio durante il covid credo non so se l'anno prima o l'anno dopo comunque era intorno al 2020 io me lo ricordo praticamente che cosa è successo che Fran annuncia che la tata si rifà cioè che si fa che è il continuo e caccia un trailer caccia un trailer in cui spoiler per chi non ha visto la serie si metta un attimo si tappia un secondo le orecchie poi vi faccio cenno in cui praticamente lei e il signor Sheffield avevano divorziato e il signor Sheffield si era sposato con Sisi e quindi che lei era tornata a vivere così assunta e allora io visto quel trailer siamo rimasti tutti senza parole ok potete potete togliere potete togliervi le mani dalle orecchie e praticamente che cosa è successo che quindi i fan ci sono rimasti un po' di cavolo sono rimasti interdetti tra cui pure io e poi che cosa ha detto ha detto pesce d'aprile e infatti l'aveva pubblicato il giorno del pesce d'aprile cioè lei ha fatto un trailer solo per fare uno scherzo ai fan soggetto comunque prima di raccontarvi l'ennesima tragedia perché le tragedie di Stadonna non finiscono qui e andando velocemente ha recitato ad esempio nel 1990 prima della Tata in Cadillac Man e Jack due film entrambi con Robin Williams e uno di quei Jack credo che sia un film di coppola quindi comunque insomma anche contesti abbastanza importanti poi ha recitato in tv e al cinema anche per l'amore un trucco e ho fatto a pezzi mia moglie nel 2005 è stata protagonista di una sitcom a casa di Fran quindi sempre lei come protagonista nel 2011 l'attrice è poi tornata in tv con Apley Divorce e nel 2014 fa il suo debutto a Broadway con il musical di Cenerentola e tutti i guadagni del musical di Cenerentola sono tutti i suoi guadagni sono stati messi in beneficenza ma ma nel 2000 altra tragedia nella vita di questa donna perché scopre di avere un cancro all'utero quindi c'è a farvi capire che lei per fortuna per fortuna riesce a superare per fortuna riesce a combatterlo riesce a liberarsi ma sempre per il suo principio trasformo i atti negativi in cose positive crea una fondazione chiamata Cancer Schmaner a sostegno delle donne che scoprono di essere malate di cancro quindi non solo questa associazione ti dà un sostegno a livello medico ma anche a livello psicologico ti aiuta ad affrontare la malattia inoltre nel 2009 intraprese varie collaborazioni con organizzazioni sanitarie per aumentare la consapevolezza dei problemi di salute delle donne e appunto aiutava queste donne ad affrontare il cancro quindi insomma come vedete per quello vi dico è una donna che riesce a prendere dalla tragedia a farne una forza che purtroppo non è scontato e anche chi non ce la fa non è che sia colpevole di qualcosa ma il suo impegno non finisce qui perché addirittura lei appunto è anche impegnata in politica e pensate che nel 2015 è diventata ministro presso il monastero della chiesa della vita universale in modo da poter ufficiare legalmente le cerimonie nuziali lgbtq poi il 2 settembre del 2021 viene eletta presidente della screen actors guild cioè il sindacato degli attori e infatti come abbiamo parlato del video del sindacato degli sceneggiatori che sta scioperando lei è il capo del sindacato degli attori e lei è scesa in piazza insieme agli sceneggiatori ha fatto partire lo sciopero degli attori per tutti i motivi che vi dicevo in questo video è lei che sta combattendo contro le grandi case per i diritti degli attori quindi è una persona che comunque tutti i giorni per anni nonostante tutto quello che le è successo ha sempre lottato per un qualcosa ha sempre cercato appunto una battaglia per poter aiutare le persone in difficoltà in questo caso lei adesso sta rappresentando il sindacato degli attori lei è presidentessa del sindacato degli attori e sta smuovendo le masse perché lei è stata fondamentale ed continua a essere fondamentale nella contrattazione perché come dicevo anche nell'altro video i contratti non cambiano credo dagli anni 40 dagli anni 30 o qualcosa del genere quindi questo video è stato abbastanza triste ma è stato anche abbastanza emozionante secondo me perché lei dopo tutte le tragedie che ha subito comunque è una donna da cui dobbiamo è una persona donne e uomini è una persona da cui si può prendere esempio perché appunto tutto quello che le è successo di negativo nella vita lei lo ha trasformato in un qualcosa di forte e ci ha fatto delle battaglie ha generato delle battaglie quindi è da apprezzare perciò facciamo un applauso a Fran non solo per aver fatto la tata ma per la sua forza d'animo bene ragazzi noi ci vediamo dopo domani per un altro video spero che il video su Fran vi sia piaciuto quindi ciao ciao